Qualcuno lo aspettava per caso? E' arrivato Tatanka! Hai comprato la... Sono arrivati Caramba! Caramba, Tatanka! Tatanka! L'ispirazione è trovare la musa rimata in prosa, che sia ben chiara e non noiosa. Tatanka! E anche se alla fine sarà un po' sciocca, di sicuro avrai trovato la filastrocca. E' arrivato! Hai comprato! E' arrivato Tatanka! Hai comprato la... Sono arrivati Caramba! Tatanka! Caramba! Ci vuole un urlo libero! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti